Stavolta ci annoieremo, anche perché grazie a te il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressan. Che spettacolo incredibile qui all'estadio Bregali, uno degli stati più importanti del Portogallo. Questo periodo sembra girare tutto scopo, Fabio. Le prestazioni sono poco brillanti, c'è un appannamento fisico evidente e anche qualche malumore di troppo tra i tifosi. Possono essere contenti di quanto sta succedendo, ma non devono cercare scuse. Da un periodo del genere si può uscire... Provativo! E' il cerco del Milan! E' arrivato subito il gol. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Un inizio che possiamo considerare... Guaglialella! Salvati dal palo! C'è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria... Non insistere! Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Proprio così. Tante anche, solitamente queste giocate si concludono con il dole. Recuperano il possesso del pallone. Ottimo disimpegno, fondamentale. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Costituzione comprensibile. Decisore. Il Milan deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Gratissimo. Ma alla fine il lago della bilancia è l'unico gol segnato. Beh, non si può sempre dominare per Goliada. hanno ottenuto una vittoria di misura grazie alla rete nella prima parte e poi hanno dimostrato maturità mantenendo il vantaggio.